Radio Mi Piaci, buongiorno, con chi parlo? Tommy, buongiorno, che piacere dialogare con un amico sindaco De Caro, Samino Dante. Samino, come stai? Come va? Allora, Antonio, a fronte di tante domande che ti pongono problemi, giustamente i cittadini, perché se non li pongono ai sindaci, a chi li devono portare, invece io voglio sottolineare questa bella notizia dell'area mercatale a quartiere Libertà, insomma, no? Il park and ride, l'area mercatale che cominciano a prendere forma. Antonio De Caro sa bene quanto tutte le associazioni di categoria, compresa la nostra, hanno... Sapi, la domanda è i tempi, Antonio, ti chiedo soltanto di confermarmi i tempi, perché gli operatori, ovviamente, la cosa che chiedono è di sapere. Fino a quando possono resistere in via portoghese? Perché se i tempi si allungano, caro Antonio, rischiamo che poi nella nuova area mercatale non ci va nessuno. Sto cercando di mantenere l'impegno che ho preso con voi, con te, con le altre associazioni di categoria, rispetto allo spostamento di quel mercato. La delibera dall'altro giorno di Consiglio Comunale è il secondo passaggio in Consiglio per la dichiarazione di pubbliciturità all'esproprio, il vincolo preordinato all'esproprio, è la variante urbanistica. Quindi dal punto di vista urbanistico abbiamo risolto tutti i problemi e adesso siamo in fase di progettazione e di impegno di mandare in gara quell'area mercatale entro il 2023 per poi realizzare i lavori l'anno prossimo o comunque completare i lavori entro l'anno prossimo. Prima della campagna elettorale si fa tutto, giusto? La campagna elettorale non sono candidato più. Non si sa mai, aspetta, non tre po', stanno prendendo deciso, aspetta. Vabbè. Allora, mi hanno mandato... Quella sarà un'area mercatale, lunedì mattina e il resto dei giorni sarà un'area parchegna. Mi hanno mandato un messaggio.